Innovazione, digitalizzazione, rispetto dell'ambiente va anche in questa direzione. Il progetto presentato questa mattina dalla ICO qui a Pianella, dottor Olivastri, un progetto che Confindustria ovviamente abbraccia in pieno? Sì, sono tematiche che Confindustria sta abbracciando in pieno, soprattutto negli ultimi tempi. Il Green Deal e comunque l'economia circolare sono al centro delle politiche confindustriali del breve e medio periodo. Un progetto che vede questa azienda protagonista non solo in Abruzzo, non solo in Italia, ma nel mondo? Sì, anche perché rappresenta uno dei pochi punti in Europa che producono in digitale cartone ondulato. La clientela media di questa attività non è di un settore, ma è trasversale, tutti i settori ne possono beneficiare, ma soprattutto questa rende competitiva non solo l'azienda ICO, ma l'azienda acquirente, perché riesce ad accorciare in maniera determinante il time to market di diversi prodotti. Oggi in particolare è stato presentato questo macchinario, questa stampa che permette un particolare lavoro, delle particolari incisioni sui cartoni ondulati. Sì, in pratica dal mio trascorso professionale posso attingere a piene mani. Questo processo evita tutta la prestampa di una volta, evita la realizzazione dei cliché, si va direttamente in stampa con il file che viene predeterminato all'origine dal creativo o comunque dal progettista. Per chiudere, Confindustria punta sempre più sulla digitalizzazione e l'innovazione anche per il futuro, anche in questo periodo post-Covid. Sì, la digitalizzazione è il tema principale in questo momento. Avere aziende come questa o comunque avere un nucleo di aziende che sempre più investono nel digitale significa anche rafforzare un territorio, Confindustria a fianco del territorio e a fianco delle imprese che innovano e digitalizzano i loro processi. E il Covid, dobbiamo dire che ha sicuramente accelerato il processo facendo in modo di, non so, ci siamo resi tutti conto che senza digitale non si andava da nessuna parte e chi era già pronto, chi era già in linea su questo tema ha avuto dei benefici o meglio ha avuto meno disagi degli altri.